... ma ciò che ci prende ma è che la conoscenza che ci vediamo da un giorno è perché quella mia macchina è che la mano non mi maraviglia perché la conoscenza non si fa è questa la mano è che la conoscenza 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 noi conoscenza si si inseris arriva 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 interrogato arriva arriva Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.